E' una presentazione Bonded, la fibra di cellulosa stabilizzata per isolare la tua casa Con Bonded avrai un caldo inverno e una fresca estate Con un notevole risparmio energetico Bonded e a Darsiero, Vicenza Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le previsioni meteorologiche a cura di serenissima meteo Diamo insieme uno sguardo alla situazione in generale prevista per giovedì 14 agosto La vigilia di ferragosto sarà caratterizzata ancora dalla presenza di tese correnti sud-occidentali sulla regione Fino a quando non transiterà l'asse di saccatura alla sera Ora nel dettaglio le previsioni per il Vicentino Giovedì mattina il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con schiarite e annuvolamenti Al pomeriggio il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso in pianura Con attività cumuliforme in sviluppo Saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali temporaneamente intensi Sui rilievi il cielo si presenterà per lo più nuvoloso Con attività cumuliforme ed associati rovesci e temporali, alcuni dei quali intensi Alla sera è prevista una diminuzione generale della copertura nuvolosa Il cielo si presenterà quindi irregolarmente nuvoloso sui rilievi E poco o parzialmente nuvoloso in pianura Rimangono possibili rovesci ed occasionali temporali Irregolarmente presenti sul territorio ma con maggiore probabilità sui rilievi Uno sguardo anche alle temperature I valori previsti per la pianura e per l'altopiano di Asiago Saranno quelli indicati in grafica Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci È una presentazione Bonded La fibra di cellulosa stabilizzata per isolare la tua casa Con Bonded avrai un caldo inverno e una fresca estate Con un notevole risparmio energetico Bonded e a Darsiero Vicenza C'è 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 C'è